Abbiamo dovuto assistere in questi giorni a delle cose di una strumentalità vergognosa. Mi riferisco agli onorevoli Salvini e Meloni. In queste settimane di manifestazione di cortei selvaggi, soprattutto al nord, ma anche a Roma, Milano, in queste settimane questi esponenti politici hanno fatto di tutto per ostacolare la diffusione del Green Pass, una polemica quotidiana contro il Green Pass. Adesso che hanno verificato che vi sono danni enormi per le attività commerciali, i fine settimana ormai sono vietati per i consumatori nei centri storici nei quali si fanno questi cortei scriteriati, irresponsabili e il più delle volte violenti. Questi due esponenti politici hanno fatto polemiche contro la polizia che si era permessa di usare gli idranti per liberare un varco nel porto di Trieste. Gli idranti, non i lanciafiamme, le bombe a mano, gli idranti per liberare. Polemiche continue. Adesso, di fronte alle proteste per l'aumento del contagio irresponsabile, per il danno che si sta producendo per le attività commerciali, per il pericolo di arrivare nelle feste di Natale con i negozi chiusi, fanno appello a che si blocchino i cortei selvaggi. C'è da vergognarsi di fronte a questi atti di prima irresponsabilità e poi di grande e insopportabile ipocrisia.